Sono ore di decisioni e forse indecisioni sul futuro degli studenti che andranno agli esami a giugno. Dobbiamo decidere a breve per dare certezze alle scuole e agli studenti e offrire un quadro chiaro, afferma il ministro dell'istruzione, che ipotizza un maxi-esame orale. C'è però chi non è d'accordo e propone anche prove scritte. La prossima maturità terrà conto dell'anno in corso, ma dovrà essere comunque un esame completo, serio, capace di offrire un quadro adeguato alle competenze degli studenti. Due le ipotesi alle quali si starebbe lavorando. Una ricalca l'esame dello scorso anno con una sola prova orale in presenza davanti ad una commissione di docenti interni. La seconda ipotesi, invece, prevede una sola prova scritta al posto di due e una prova orale.